Teresa, Teresa, come stiamo, ma dottore, 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 per favore, che ci fa qua, che ci fa qua, scusa, sono il marito, dottore, come stai qua, è certo, ma però deve stare in silenzio, non è che stiamo in mezzo alla strada qua, chiedo scusa, abbiamo soccorsa, per fortuna adesso sta anche meglio, sta arrivando l'infermiera perché ha bisogno della respirazione artificiale, artificiale, dottore ma siamo i pazzi, ti ho i soldi, pago in contanti, voglio la respirazione vera, Ma che stiamo scherzando? Amor, non ti preoccuparti, ti salvo io, artificiale, vera, per favore, amore, sei tranquillo